Gossip uomini e donne, Marco Cartasegna arriva a Detto Fatto Detto Fatto, da uomini e donne arriva Marco Cartasegna. A quanto pare, in queste ultime ore, Marco Cartasegna è tornato a far molto parlare in rete. . Difatti, dopo essere stato sorpreso in compagna della bella soleil sorge, scatenando una vera e propria polemica, ecco arrivare quest'altro annuncio, che ha preso tutti in contropiede. . Difatti, l'ex tronista di Uomini e donne è tornato in tv come tutor nella trasmissione di Rai 2 Detto Fatto. Una notizia che, inutile negarlo, ha fatto molto piacere alle numerose fan del giovane. . Ma chi è Cartasegna? Per i pochi che non lo sapessero, ha fatto il tronista nella scorsa edizione del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. . In quella occasione ha creato molto scompiglio perché ha cercato di soffiare da sotto al naso la bella soleil al concorrente del grande fratello Vip. Motivo per cui tra i due è scoppiata un'arcesissima rivalità. . Tuttavia, il bel Cartasegna, dopo aver cercato di far breccia nel cuore della Sorge per qualche settimana, è stato costretto a ritirarsi davanti all'evidenza. Marco Cartasegna, da tronista di Uomini e donne a tutor di Detto Fatto. . Marco Cartasegna, nonostante il due di picche ricevuto da Soleil Sorge nella scorsa edizione di Uomini e donne, ha comunque trovato l'amore, fidanzandosi con la bella Federica Beninca. Tuttavia la relazione è durata giusto qualche settimana per incompatibilità caratteriali. . Ma il giovane neo-tutor di Detto Fatto sembra non essersi perso d'animo. E dopo qualche settimana ha iniziato a frequentare la figlia del noto allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. . . Però il ragazzo non ha fatto molto parlare solo per la sua vita amorosa in questi mesi perché ha lasciato di stucco un po' tutti il fatto che abbia dichiarato su Instagram di aver rifiutato la proposta di partecipare a questa edizione del Grande Fratello Vip. . Difatti, proprio in quella occasione, il giovane di origini milanesi ha rivelato di essere stato costretto a rifiutare il GF Vip perché nel suo futuro lavorativo ci sarebbe stato un altro progetto top secret, che avrebbe annunciato solo a tempo debito. . E, a quanto pare, il momento è arrivato, Marco Cartasegna da oggi è stato arruolato nel cast della trasmissione quotidiana di Rai 2 Detto Fatto Come Tutor. . . E per vedere come se la caverà in questo ruolo non resta che seguire la trasmissione ogni giorno a partire dalle 14 sul secondo canale nazionale. Intanto non resta che fargli un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura. . .